Perché mi hai fatto venire qui? Voglio che mi aggiorni sulle condizioni del paziente. Direi che è morto. Perché mi hai fatto venire qui? Voglio che mi aggiorni sulle condizioni del paziente. Mentre lanci questa contro la parete. È l'unico posto dove possiamo farlo. Ho fatto l'ultimo prelievo di sangue. Mi aspetto che quelli che lavorano per me affrontino tutte le sfide a meno che non vogliono più lavorare per me. L'ultimo prelievo l'ho fatto alle sei del mattino. Per tutta la notte il livello di glucosio è rimasto sotto 120. Quindi se il glucosio è normale, ti sbagliavi sul diabete? Penso ancora che si tratti del sistema endocrino. Probabilmente ho solo sbagliato ghiandola. Vuoi puntare sulla tiroide invece che sul pancreas? Buona idea. Bene. Non gioco a racquetball con Wilson. Non giocherò mai a racquetball con Wilson. Non ho mai giocato a racquetball con Wilson. Credevo che potesse essermi utile che un primario mi dovesse un favore. Ma non a questo prezzo. Non male. Come sceneggiata. Wilson ha addirittura prenotato il campo. Ma se tu fossi un giocatore di racquetball, sapresti che quella è una racchetta da squash. Di a Katener di fare una scintigrafia tiroidea. Vado a fare un pisolino in una delle stanze dei medici di guardia. Vado a fare una scintigrafia tiroidea.